Benvenuti cari MTIers, oggi è una ricorrenza importante per me. Un anno fa, il 16 marzo 2020, circa le ore 20, sono riuscito a varcare il confine italiano dopo un'odissea da Tokyo a casa mia, che si concluderà però il giorno dopo alle 12.30 circa. Ho deciso quindi di rimontare in maniera più dinamica il mio video di rientro. Fatemi sapere cosa ne pensate, nei commenti, mettete il mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ma adesso, buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!